buongiorno da WTV News oggi 26 febbraio e santo alessandro ed è anche la giornata mondiale del pistacchio una porzione di pistacchi al giorno rigorosamente senza sale e un vero tocca sana diuretici anti colesterolo anti infettivi anti ansia e utili in caso di depressione e diete ma soprattutto i pistacchi non fanno ingressare anzi possono aiutare a dimagrire grazie alla grossa quantità di fibre e al grande senso di sazietà che offrono il pistacchio assai pregiato e per il suo sapore aromatico e gradevole e molto ricercato in pasticceria in gelateria e per aromatizzare insaporire molte vivande l'olio estratto dal pistacchio infine trova applicazione anche in dermatologie e cosmesi grazie alle notevoli doti emollienti e ammorbidenti i pistacchi fanno bene al cuore grazie agli alti livelli di grassi insaturi e mono insaturi contenuti e una proteina completa donano un'ottima fonte di energia aiutano a mantenere la concentrazione e sono ideali per il post allenamento perché aiutano a costruire e preservare i muscoli e contribuiscono a dare il giusto rifornimento al corpo dopo lo sforzo fisico